Gabriele Liberti, un cantante! Adesso vi spiego perché Gabriele ha questo look particolare. Gabriele, ben arrivato. Intanto vogliamo dire gli anni, Gabriele? Undici. Undici anni. Allora, Gabriele è vestito così, lo vedete, perché canterà o surdato e innamorato, vero? Quindi, devo dire, una voce bellissima. E poi lui la fa bene perché la dedica alla sua innamorata, vero? Vogliamo dire come si chiama la tua innamorata? Noemi. Noemi, quindi tutto per Noemi. Un grande applauso per Gabriele Liberti! Gabriele! Gabriele! Un grande applauso per Gabriele Liberti! Niente voglio niente e spero che a tenerti a sempre fianco a me. Sì sicure a chissà amore, come so sicure a te. Oh, è vita, vita mia, oh, è gloria di chi suore, si salva, oh, è mamma, oh, è mamma, tu sarai Quanta notte non ti bevi, non ti sento il tasto e braccia, non ti va su questa faccia, non ti stregno, corte in braccia Ma scelta ne meste suone, mi fai chianire per te Llorita, lorita mia, voi gore, atteggi suore, riscata, o prima lonti, o prima lonti, un tzarape. Llorita, lorita mia, voi gore, atteggi suore, riscata, o prima lonti, un tzarape. Llorita, lorita mia, voi gore, atteggi suore, riscata, o prima lonti, un tzarape. Llorita, lorita mia, voi gore, atteggi suore, riscata, o prima lonti, un tzarape. Llorita, lorita mia, voi gore, atteggi suore. Da tre settimane. Da tre settimane, va benissimo, un grande amore, una grande storia. Perfetto, grazie Gabriele, ci vediamo dopo, va bene.